Desideri un caffè o anche altro? Non accontentarti di un qualsiasi bar. Bar Simonetti di Simonetti Pietro, unica sede a Taranto in via Umbria 186, è lieto di accoglierti in una location sempre più rinnovata sia all'interno sia all'esterno. Davvero ricca la nostra offerta! Caffetteria, aperitivi guarniti, rustici, panini, tramezzini, taglieri di formaggio e molto altro ancora, oltre ad una vasta gamma di vini di qualità. Consentici poi di esprimere l'orgoglio di appartenere alla famiglia Illy quali artisti del gusto. Tanti i nostri servizi! Marche da bollo, attivazione carte prepagate, Sisal, Lottomatica, Speed, ricariche illimitate Postepay e Paypal, abbonamenti CTP e Ferrovie Sud-Est, raccomandate, calcio scommesse, biglietti stadio Taranto Calcio, vendita giornali, punto esclusivo o Babaluba. Per gli acquisti online puoi venire da noi e pagare la stessa cifra indicata sul sito. Abbiamo superato con soddisfazione i 30 anni di attività, ma l'entusiasmo e l'umiltà sono come quelli dei primi giorni. Ti aspettiamo! Bar Simonetti di Simonetti Pietro. Qualità, eleganza, cortesia e professionalità.